Dopo due mesi e mezzo di astinenza tra le mura amiche, l'Avellino davanti ad un pubblico da minimo storico per il Partenio ha trovato una vittoria tonificante. Il gol partite è arrivato su un'autorete di Dondoni, ma il bunker difensivo degli Ettenei è stato messo a dura prova dalla formazione erpina. Un risultato che comunque non toglie certezze al Catania, ma premia le scelte di Lombardi, deciso a continuare sulla strada del modulo offensivo prudente, con fresta unica punta mai illuminata. Tra i siciliani prestazione sono lenta della coppia Cipriani-Pelosi, in evidenza invece l'estro di Pittana, protagonista di una buona prova e del miglior acuto di marca Catanese.